Un matrimonio normale. Stasera, spaghetti al pomodoro. Addirittura, un figlio normale. Papà, sei in mezzo a scuola. Sei in mezzo. Un lavoro normale. Come va Mimò? Tutto bene, caro. La maestra, sai che ha detto? È l'alunno più normale della classe. Ma quanto poteva durare questa normalità? Eh, poco. Ok. Non è neanche sta roba... Mimò? Mi sa che Mimò... Mimò? Oddio, non si muove. Come non si muove? Non lo so, gli sarà andato qualcosa di traverso. No, dottore, ha visto passare una figa. Quello è il motivo? La voce della verità è una storia che succede spesso. Molto spesso. Nel tentativo di raggiungere un qualcosa per lui irraggiungibile. Quindi il cervello funziona, pensa. Pensa solo alla figa. Entrando così in uno stato che noi definiamo patatonico. Patatonico, vabbè. Se avessimo i testicoli, potrebbe riprendersi. Ma voi siete matti? Il mio marito è un uomo virile. Forse abbiamo la soluzione. Ah. Bisogna rintracciare quel gran pezzo di figa. Vabbè, adesso. La figa di Damara. Eh. Ma quella non era da fare la mignotta Repubblica cieca. Per dire. Il sacrificio di una donna per riavere il suo uomo. A me cosa cazzo frega di suo marito? Ah beh. Guardi, io posso anche pagarle. Ah no, devi pagare. Quanto? Un importante esborso economico. Ah, ma dottore voglio entrare anch'io. Eh no. E' uscita solo. Sai l'operatoria. Funzionerà la terapia? Sembra di sì. Sì. Eh sì eh. Funziona. Eppure si muove. Funziona. E' morito. Una lunga terapia. Vabbè, lunga terapia eh. Ci vuole un po'. Eeeh, balla. La gioia. Beh, adesso. Mi sono esagerando. Va bene, adesso. Il nostro Carletto ci ha stupito. Sette meno meno meno. Addirittura. Con quattimeno. No. Un'altra. Un film che non c'è niente da fare. Un film che non c'è niente da fare.